Un saluto dal Tg della Mobilità, mercoledì sera a partire dalle ore 21 allo Stadio Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Per agevolare gli spostamenti dei tifosi il trasporto pubblico sarà potenziato, in particolare il servizio delle metropolitane sarà prolungato sino a 1.30 di notte. Ulteriori dettagli sul piano mobilità per la finale